Ciao a tutti, io sono Noemi Matteucci, fondatrice di SemplicementeCurvy.it, un magazine dedicato alle donne con le curve, e oggi vi preparo la mia ricetta per Curvy Pride, la torta a mora. Ho tagliato il pan di spagna in tre dischi. E tra poco vado a bagnare il pan di spagna con caffè e latte freddo, giusto per dare un po' di sapore di caffè. Fare la crema della farcitura, mischio in un pentolino farina e zucchero bianco, a cui poi vado ad aggiungere il latte, 400 ml, e il caffè, che è già pronto sul fuoco. Vado ad aggiungere del caffè al latte, 100 ml per la precisione, e arriviamo a 500 ml. Vado ad unire il latte e il caffè al mio preparato precedente, e poi giro delicatamente con la frusta. metto il tutto sul fuoco, e giro delicatamente con una frusta, aspettando 5-10 minuti, finché tutto si addensa. Una volta che la crema si addensata, la mettiamo in un piatto e la lasciamo freddare. Questa è la mia torta finita. La cucina è un po' indisordine, ma spero che sia venuta buona. La metterò in frigo per due ore, e aspetterò che si freddi. Buon appetito a tutti!